La passata stagione fu un testa a testa entusiasmante, alla fine la spuntò la squadra più organizzata, la più forte, il Gela. La San Cataldese si trova nel campionato di Serie D grazie al ripescaggio e domani si ripeterà il derby del Nisseno che polarizzerà l'attenzione di tutti. Appuntamento alle 14.30 al Vincenzo Presti. I biancazzurri del tecnico Pietro Infantino stanno volando. Quattro vittorie di fila, 12 punti, 9 gol fatti ed uno solo subito. I San Cataldesi arrivano dalla sconfitta interna subita con la Turris, ma un derby è una partita a sé. Noi non guardiamo la carta ma guardiamo il campo, non sarà una partita facile, è una partita abbastanza tosta e cercheremo di fare bene e cercare di portare i tre punti a casa. E come si fa a battere la San Cataldese? Mettere voglia, cattiveria e cuore dentro il campo, l'unica cosa è questa qua. Un Gela che marcia spedito nelle zone alte della gradutoria, un ruolino di marcia che ha sorpreso anche gli stessi addetti ai lavori. È vero che pensiamo partita dopo partita, non pensiamo alla prossima settimana se c'è la Leonzio, noi adesso aspettiamo la San Cataldese in casa e cercheremo di fare il risultato. La coppia più bella del mondo l'abbiamo definita. Montalbano, buon anno, segnata sempre voi. Speriamo che continuiamo così. Cosa è cambiato? L'abbiamo detto anche in altre circostanze, dalla scopola tremenda a fratta maggiore alle quattro vittorie consecutive che poi, in maniera molto più dettagliata, hanno portato intanto 12 punti. Nove gol fatti e soltanto uno subito. Niente, come ho già detto nelle interviste scorse, è cambiato l'atteggiamento. L'unica cosa è cambiata perché abbiamo capito che dovevamo stare con i piedi per terra dopo 5 volte abbiamo preso a fratta, quindi abbiamo cominciato a ritornare umili. I biancazzurri si trovano ad una sola lunghezza dal secondo posto e a meno 5 dalla vetta. Ma quali sono gli obiettivi? L'obiettivo è divertire e divertirci. Questo è l'unico obiettivo. Poi a fine anno tiriamo le somme. Questo Gela dove può arrivare allora? Può arrivare nelle prime 5, speriamo arrivare nelle prime 5. Noi dobbiamo solamente continuare a fare bene. È l'unico obiettivo che abbiamo noi. Gela San Cataldese, 1 in schedina? Sì, dai.